Ancora poco tempo e poi il nodo iscrizione in casa Teramo sarà risolto. Tutto dipenderà dalla possibilità per il presidente Iachini di trovare le risorse per chiudere la stagione passata e le relative pendenze e poi eventualmente iniziare il percorso per quella successiva. Tutto si basa su questo e sono giorni e ore abbastanza frenetiche per il massimo dirigente Biancorosso anche considerando che le operazioni con il mondo bancario fatto salvo lunedì 28, l'ultimo utile per l'iscrizione vanno messe a punto almeno entro venerdì prima del fine settimana o al massimo proprio lunedì. La cosa certa è che al di là della calma apparente si lavora a fare i spenti nell'attesa di capire se ci sono i margini oppure no per non perdere il professionismo. Perdita che sarebbe un vulnus gravissimo dopo i tanti anni passati in Lega Pro. Pare che Iachini questi giorni li stia passando cercando di comprendere i confini della questione dal punto di vista economico e sembra abbia avuto anche qualche contatto telefonico in questo senso. Allo stato attuale non è dato sapere se si trovi o meno a buon punto mentre la tifoseria organizzata proprio lunedì si ritroverà unita e compatta per difendere la squadra che l'iscrizione ci sia o meno e chiedere all'attuale presidente di farsi da parte. In ogni caso la mattinata di ieri ha visto parecchi striscioni affissi in alcuni luoghi simbolo del calcio bianco-rosso non è passata inosservata infatti la linea di Iachini che anche stavolta, come fu nell'estate 2020, minaccia di non iscrivere il Teramo al campionato di Serie C. Strategia attuata l'anno scorso ma che ripetuta stavolta ha suscitato la netta reazione delle varie componenti del tifo cittadino che adesso chiedono un passo indietro al presidente e comunque vadano le cose. 12 mesi fa non c'era stato il comunicato? Non era stata dichiarata conclusa l'esperienza societaria? Mancavano dunque tasselli fondamentali rispetto a quello a cui si è assistito questa volta. La situazione sembra molto più seria ma comunque in caso di buon esito il Teramo dovrà ricominciare la costruzione di buona parte della struttura sportiva per affrontare l'annata. Manca l'allenatore che dovrà sostituire Massimo Paci? Bisognerebbe rinnovare il direttore sportivo o in caso di mancato rinnovo trovare le rede di Sandro Federico? E poi in poche ore, e ammesso che non si siano già casati altrove provare a trattenere entro il 30 gli elementi in organico che serviranno al nuovo progetto sportivo. Che sarà in ogni caso con costi decisamente più contenuti di quelli attuali che già avevano subito una sforbiciata decisa l'estate passata. Quella 2020 sembrava una stagione caldissima nulla a che vedere però con questa che anche dal punto di vista del rapporto dirigenza-tifoseria è davvero bollente. Grazie. 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 Grazie.